Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati nell'ottavo episodio della RetroCraft, signori. Siamo nella fortezza, stesso punto dove ci siamo lasciati ieri. Non è cambiato assolutamente nulla, mi hanno colpito, non so come, ok, mi ha colpito lei. Questo è un'ottima cosa, perché comunque, mo, ti andiamo a ammazzare male e conquistiamo la nostra prima bellissima Blade Road. Devi morire male, ok, signori. Sento spari come se non ci fosse un domani, non so da dove arrivano. Mangiamo un panino, leviamo tutte queste torce, ok. Allora, signori, abbiamo conquistato la nostra prima Blade Road. Tanta roba, tanta roba, ok. Mamma mia, che cacciara che stanno a fare. Ok, là c'è un altro Wither Skeletor, questa cosa non è delle migliori. Ce n'è altri due. Maiala. Ok. Ok, no, è solamente uno, ok, è solamente uno. Lasciamo ammazzare pure lui. Ok. Ok. È morto? Sì, perfetto. Io però mi fermerei un attimo per fare un piccone in pietra. È un piccone in ferro, signori, perché sennò consumiamo quello nostro in... Cosa cazzo la sto a fare? Consumiamo quello nostro... Dai, che cazzarola stai facendo? Ok, col nostro in diamante, dico, è un grosso peccato. È un grosso peccato. Ok. Poi mi devi mettere questo qui, così, perfetto. Breve. Ok. Così possiamo metterci in sicurezza in un momento qualsiasi. Di qua c'è una cassa e di là c'è una blaze rod. Ok. Ok. Calma. Bravissima. Hai sparato. Sono contento per te. Io ti ammazzo male. Anche a te ti ammazzo male. Dai, dai. Muori e dammi. Ok. Quante blaze rod usiamo? A due. Va bene. Non... Calma e stanco e freddo. Abbiamo trovato già una cassa, signori. Possiamo liberarci di qualche materiale che non ci serve? Questa grave non ci serve. Troppi blocchi di nederite. Via. Via. Queste ossa non ci servono. E anche via questi altri blocchi di nederite. Abbiamo troppi blocchi di nederite. Anche perché qui dietro adesso c'è una cassa bellissima. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ok. Speravo... Mi sono casato fin troppo. È una cassa bellissima e non c'era una cippa di nulla. Ok. Cerchiamo di capire come funziona questa fortezza. Andiamo, 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 andiamo in questa direzione. Andiamo, andiamo in questa direzione. Andiamo di qua. Vediamo qui cosa ci riserva. Ok. Tu devi morire male e darmi una blaze rod. Non mi danno più blaze rod, queste cazzarola di cose. Perché? Cosa non hanno capito del fatto che mi devono droppare le blaze rod? Cosa non è chiaro? Uh, un magma block, signori. Questo è carino. Ci serve a qualcosa per la serie? No. Perché abbiamo... Siamo in una serie di molto più veloci. Quindi i magma block sicuramente non ci servono a tantissimo. Mori male. Morite male anche voi qua sotto. Mori, 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 mori. Mori, 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 mori. Stanno droppando qualcosa? Non lo so. Uuuuh, addirittura. Quanti siete qua sopra? Dai stelle, fatevi tutti quanti. Mannaggia a voi. Non ho tempo da perdere con voi. Ok. Tutto questo non mi hanno droppato assolutamente niente. Mangia di una fettina di pane. Dai, una fettina di pane. Dai, 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 dai. La spada di riserva ce l'abbiamo. Ok. Calma e sangue freddo. zona troppo aperta per i miei gusti. Uuuuh, uno spawner di blaze rod. Ok. Ok. Allora, io direi di seguire un attimo il suggerimento di X-Men e farci uno scudo. Il problema è che non mi ricordo come si fa lo scudo. Si fa così? Come cazzo si fa lo scudo? Non me lo ricordo. Non mi ricordo come si fa lo scudo. Questa è una cosa gravissima. X-Men, perdonami. Non ricordo come si fa lo scudo. Eh, ok. Calma e sangue freddo. Lì c'è il delirio più totale. Sì. Allora, se ora sparano tutte e tre. Però quella ha sparato e quella ha mostrato caricata. Ok. Allora, andiamo, 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 velocissimo. Intanto spegniamo lo spawner, ok. Questo è già qualcosa. Questo è già un obiettivo che abbiamo raggiunto. Siamo riusciti a spegnere lo spawner. Quindi già direi che un obiettivo l'abbiamo raggiunto. Abbiamo un altro obiettivo però sbagliato No, 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 stiamo a morire Stiamo a morire, piccolo problema tattico Stavamo morendo malissimo Signori Che cazzo era quelle playzone Perché non mi sono portato un arco mannaggia a me Perché non mi sono portato un arco mannaggia a me Però se non sali zia io non ti posso Ok, uno Stai Che poi erano due se non ricordo male Dove fin da un'altra? Mizzica Attenzione, attenzione Grave, gravissimo problema Gravissimo problema Ai ai signori, signori Siamo messi male, siamo messi male Non mi aspettavo Tutta questa difficoltà subito così Le blazer ci servono Ma Dobbiamo riuscire a sopravvivere Via, via, via Uuuu, addirittura No, 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 no Grave, 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 grave Grave, 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 grave Grave, grave, grave Non si danno blazerod Faccio un breve taglio, signori Vediamo un attimino di conquistare Signori, catastrofe Catastrofe Siamo morti proprio nel momento peggiore Avevo fatto il breve taglio per Per cercare di ammazzare le blazerod E siamo morti proprio nel momento peggiore Proprio nel punto più sbagliato In cui potevamo morire Ma siamo riusciti a morire, signori Proprio l'abbiamo combinata Mannaggia a me che mi sono incapponito Con questa cazzola di blazerod E l'abbiamo combinata, signori L'abbiamo combinata Va bene Calma, calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Riusciamo a recuperare tutto Riusciamo a recuperare tutto Ricordo la strada che dobbiamo fare Calma, 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 calma Veloce, 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 veloce Riusciamo a tornare Riusciamo Devo riuscire a recuperare tutto, signori Eravamo su una piattaforma Non eravamo sul 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 Non eravamo sulla lava Quindi in teoria dovremmo riuscire a recuperare Tutta quanta la nostra zona Allora, calma, 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 calma Calma, 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 calma Di qua c'è il discorso degli Enderman Noi abbiamo girato di qua Per fare la nuova strada Ok Via veloce, via veloce, via veloce, via veloce, via veloce, via veloce Porca miseria Devo solo ricordarmi Ora di qua dove eravamo andati noi Di qua eravamo andati da questa zona di qua Veloce, veloce, veloce Non mi sono accorto che porca miseria avevamo Avevamo I cuori erano scesi come se non ci fossero domani Non mi sono accorto di questa Aia L'obiettivo è recuperare tutta la nostra zona, signori L'obiettivo è recuperare tutta la nostra roba Di qua? Penso di sì E ora dovrebbe comparire la fortezza, signori Aia La fortezza deve essere di qua Dimmi che qui la fortezza, ok La fortezza è qua Perfetto, 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 perfetto Veloce, 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 veloce Veloce, velocissimo, velocissimo Non facciamo fail Cadere in punti sbagliati Non è il momento di fare questi errori Calma Ecco, tipo questo Che non so che cazzo la stanno fa Dai così, dai così, dai così Dobbiamo trovare il buchetto che è qua Perfetto E questo è il buco? No Dove cazzarare il buco? Qua? Ok Vai, 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 veloce, 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 veloce Forse ho fatto una cagata a tornare subito qui Senza portarmi un'armatura Forse ho fatto una grossa Un grossissimo errore Un grossissimo errore No, 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 no Abbiamo completamente sbagliato strada Ma porca Stiamo salendo da un altro punto In cui non era questo Il punto dove siamo saliti prima Però va bene Intanto già siamo Al primo allo superiore Mamma mia Che errore Errore, 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 erroraccio Errore, erroraccio Calma No, 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 no No, 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 signori Siamo morti di nuovo, siamo morti di nuovo signori Siamo mortissimi, siamo proprio morti Siamo mortissimi, siamo mortissimi 14 frecce, 14 frecce Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare ce la dobbiamo fare signori, ce la dobbiamo fare calma e sangue freddo, calma e sangue freddo dobbiamo riuscire a recuperare la nostra roba come cazzo si faceva l'arco signori come come cazzo si faceva l'arco non si faceva così l'arco come come cazzo si faceva l'arco perché non mi fa fare l'arco calma, calma e sangue freddo calma e sangue freddo dobbiamo avere un minimo di protezione dobbiamo avere un minimo di protezione magari questo e magari i pantaloni un minimo, un minimo, un minimo un poco di cibo un poco di cibo signori, un poco di cibo un poco di cibo, dammi le carote, dammi le carote va bene, dammi le carote e magari una spada una spada, una spada, una spada, una spada Una spada Una spada Ok, calma, calma e stanco e freddo Come cazzo lo si facevano I cosi, mannaggia a me A chi non me lo dice pure, via, via, via Veloce, 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 veloce Dai, 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 dai Dai, 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 dai Dai, 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 dai Mannaggia a me Mannaggia a me Che confusione Ok, signori, fortezza recuperata Fortezza ritrovata, ok Ok, calma e stanco e freddo Calma e stanco e freddo Allora, calma, calma e stanco e freddo Noi siamo arrivati di qua, ok Siamo andati dritti? No, siamo andati di qui Ok Ora qui sulla destra dovrebbe esserci il centro Perfetto, io poi ho girato di qui Ok, qua dovrebbe esserci una scala Perché non ci sta la scala? Perché la scala era dietro Ma porca Ma porca Ok, con una doppia scala, ok Calma, 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 calma Ma ci siamo, ci siamo Ora andando avanti dritto di qua Sulla sinistra dovrebbe esserci tutta la mia roba Tutta la mia roba Intanto Maledette a voi Questo ve lo distruggo Perché avete Mi avete ammazzato malamente Maledette Maledette che non siete altro Tutta qua dovrebbe esserci la mia roba No, signore È despanato già tutto Non ci posso credere Non ci posso credere È già despanato tutto No E non siamo nemmeno in condizioni Per poter Per poter sopravvivere No, no, è qua, è qua, è qua, è qua Mamma mia Recupera, recupera, recupera Prendi tutto Prendi tutto Prendi tutto Il piccone, il piccone Bravissimo, bravissimo Il quarzo, il quarzo Prendi tutto, prendi tutto Prendi tutto e sparisci Prendi tutto e sparisci Prendi tutto e sparisci Mamma mia Mamma mia, signori Siamo vivi Siamo vivi Ce l'abbiamo fatta Mamma mia che impresa Mamma mia che impresa Cosa mi manca? Il piccone di ferro Va bene Non ha importanza Non ha importanza Non ha importanza Magnate una carota Signori Ce l'abbiamo fatta Allora Dopo tutto questo Facello Signori Io per questo video Mi fermo qui Mamma mia Che avventura Che è stata Abbiamo recuperato tutto Spero di sì Spero di sì Grossolanamente sì Il cibo ce l'abbiamo Le carote ce l'abbiamo Ora devo solamente Fare un attino di mente locale Ma dovremmo avere tutto Detto questo signori Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i presenti E per il supporto Noi ci vediamo domani Sempre qui Con un nuovo appuntamento Bella raga Ciao